Start, 2, 1, initial mission and liftoff! Non è un gioco per tutti, io non lo padroneggio minimamente ma voglio farvelo vedere, voglio farvi vedere un pochino quello che ha da offrire, il gioco si divide in tutorial dove dovremo lasciare un'isola iniziando con una persona poi ne scopriamo un'altra ne troviamo altri fino a diciamo craftarci la barca per lasciare il villaggio, il villaggio sì che abbiamo creato ma soprattutto l'isola nella quale siamo dispersi. Al momento Dunia è ancora in sviluppo ci sono tre scenari, ne iniziamo uno, vi premetto che ha delle meccaniche un po' strane e una grafica carina, molto carina ma anche un inglese non troppo semplice. Allora ci muoviamo col tasto VASD e si inizia diciamo da un punto sulla mappa dove abbiamo il gathering tree, praticamente abbiamo la nostra sede principale che non è immediatissimo il fatto che l'inventario l'abbiamo cliccando qua in alto con tutto l'equipaggiamento che possediamo. I nostri personaggi sono questi, possono essere ed è la prima cosa che vi mostro, possono essere aggiunti in parti e messi in draft quindi praticamente noi possiamo muoverli e farli attaccare. Ovviamente togliamo il draft e eliminiamo. Dopodiché agiranno diciamo in modo assolutamente autonomo. Abbiamo le loro statistiche che sono divise per corpo, mente, cuore, soul, anima e self e su queste loro abilità si basano tutti quelli che sono i perchi, i talenti e le passioni che andranno a sviluppare. Loro facendo cose accumuleranno questi punti path, punti percorso con i quali potremmo determinare quali sono le loro passioni. Intanto iniziamo ad andare a vedere tutti i personaggi che abbiamo. Sono tutti con punteggio relativamente alto di body, anche di mente, dire la verità, nella mia partita nel tutorial ne avevo uno con quattro. Sono abbastanza elevati. Queste sono delle caratteristiche un po' come lo zodiaco, insomma, earthborn, shadowborn, waterborn, sono affinità al fuoco, alla terra, all'acqua, all'ombra, insomma, che non ho ancora scoperto e ve lo dico sinceramente. Qua in alto a destra vediamo la prosperità, sono punti astratti, rappresentano la fertilità della nostra community. Qua abbiamo l'industria, che sono anche essi punti astratti, rappresentano la produttività, il know-how e la consapevolezza di sé, di questa civiltà. L'influenza sono punti, diciamo, dell'influenza che ha l'importanza, che ha la nostra fazione. La unity è un'altra, basata sulla solidarietà, l'armonia e lo spirito. E infine abbiamo la minity, il welfare, la soddisfazione, insomma. Vedete, non è, è molto strano, qua in alto vedete i giorni, le fasi lunari, potete mettere in pausa, potete velocizzare il gioco, inviare bug e così. Abbiamo i nostri personaggi, non sappiamo ancora che cosa fargli fare. Vedete qua sotto ci sono degli alberi e ovviamente il gioco andrà approfondito, non è il video ideale, questo è un video di presentazione. Vi voglio far vedere, personaggio per personaggio, come possiamo svilupparli. Allora, praticamente noi potremmo farlo come il nostro primo personaggio, beh, sarà molto importante fare un gutterer e lo facciamo. Vedete che lui è diventato gutterer, che è strettamente legato al corpo. Ah, ovviamente qua avete l'inventario e craftando cose, facendogliele assegnare, potrete decidere di equipaggiarle, sia in mano, che verranno usate per combattimento e per la loro attività principale, e poi anche le varie armature. Lui avrebbe ancora un altro punto, quindi potrei dargli, si sono sbloccate altre cose legate alla sua natura, legate a quello che lui sta a fare. Lui è un gutterer, quindi in automatico potrebbe diventare un cuoco, un gutterer efficiente, quindi un gutterer di livello superiore, o un green breather, che non so che cosa sia, oppure un water carrier, quindi un trasportatore d'acqua. Qua abbiamo altre ancora, quelle iniziali, possiamo andare ad approfondire, ma in questo caso non lo faccio. Andiamo adesso sul secondo, Ranald, anche lui ha questi punti, l'altro l'ha fatto gutterer, potrei farlo collector. Lui diventerà collector, e in quanto collector potrebbe diventare un woodcutter, o un efficient collector. Come prima il gutterer potrebbe diventare di livello superiore. Scavenger potrebbe diventare rock splitter. Vedete quante ce ne sono clay digger? Cioè è complessissimo. Io lo faccio woodcutter. Ora, vado a prenderne un altro, prendo morvenna, gli do l'abilità di artigiano. Potrebbe diventare un water, water, warcrafter, un weaver, quindi un sarto, expert crafter, lo faccio expert crafter, e ora man mano andrà a fare cose, salirà al suo livello. Zoe, gli faccio fare, ha fatto artigiano, north made, no, collector l'avamo già fatto, un hunter. E come seconda abilità legata all'hunter potremmo specializzarlo nelle trappole, nella pesca. Facciamolo nella pesca. Perfetto. A questo punto, una volta che abbiamo fatto queste scelte, in realtà mancano altri personaggi, però va bene. Abbiamo già un prosperity mound e un industry mound, che sono dove vengono portati i prodotti industriali e della raccolta. E questo non è molto immediato, diciamo, da capire. Il crafting, il crafting avanza man mano noi diamo passioni ai nostri personaggi. Quindi, molto importante potrebbe essere il woodcutter hat. Noi abbiamo Ranad, che praticamente potrebbe fare la costruzione di questa cosa. Quindi lo facciamo subito. Selezza, ovviamente non dovete selezionare l'icona, ma sotto. Questa è un'altra cosa strana. Dovete cliccare sotto, vi si apre questo elenco e potete farlo costruire a una persona. Io adesso vi faccio fare il woodcutter hat. Glielo faccio mettere qui. E inizieranno a... Tra l'altro c'è anche questo. Vabbè, si possono fare anche le strade. Vabbè, iniziamo così. E inizieranno a costruirlo. Ovviamente, se volete andare a migliorare la vostra visione della mappa, potete creare, andare e poi farlo. Ovviamente, camminare fino al punto di costruzione o al punto dove c'è ancora la nebbia di guerra. Comunque. Adesso inizierà a lavorare. Un altro elemento interessante di... Ecco, c'è anche tanta roba da scavare. Lo faranno in automatico, ma... Le loro attività. Una volta che però avranno il loro edificio. Quindi in questo caso, noi facciamo il giretto e esploriamo questa zona qua. Adesso... Vabbè, lui lo mollo. E andiamo a vedere se nel crafting c'è qualcos'altro. Una Fisher Tent. La fa Zoe. Gliela faccio mettere qui. Zoe se n'è appena andata giù sotto, che l'abbiamo mandata... Che però era la... L'ha detta... Alla pesca. Infatti l'avevo fatta Hunter e Fisher. Completamente a cazzo. Vabbè. Vabbè. C'è un gatto qua. Sarà nostro. Vedete anche le statistiche del gatto. Gatto, donna, adulto. Mi conta anche i gatti. No. No, 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 no. È un extra. Il cane. Abbiamo un gatto maschio. Adulto. Anche loro sono... Vedete? Se andate a vedere i loro tratti. Marwenna è umana, donna, adulta. Esperta umana, Arcadian, sotto razza. New beginning. Ok. Lui invece è un po' pallido. È un Arcadian anche lui. Sono tutti Arcadian? Zoe? Sì, Arcadian anche lei. Sì, bene, dell'Arcadia. Insomma, sì, ci sta. Ok. Adesso è stato costruito. Vedete? Lui ha già abbattuto un albero. Perché ha iniziato a operare. Ha iniziato a lavorare. Grazie all'albero. Scusate, al woodcutter sat. E adesso ho messo il... Lo sta facendo con una roccia, eh. Quindi la cosa importante da fare ora sarà craftare un tavolo da crafting. Quindi, vedete? Ho cliccato qua. Non fa niente. Questa è scomodissima. Clicco qui. Morwenna può fare un tavolo da crafting. Onestamente non ho ancora visto come fare a ruotarlo. Però lo mettiamo qui. Questo è un tavolo da crafting. Quindi Morwenna adesso si metterà al lavoro sul crafting del tavolo. Non ho ancora messo tutte le persone. Tavis. No. Vedete che stanno già salendo i punti perché stanno lavorando. Zoe, Ronald, Sherwin. Questo non glielo ho mai fatto fare. Possiamo fargli fare... Lidra. Vedete? Ci servono mille influenze. Ne abbiamo 400 al momento. Un entertainer. Un caretaker. Che crafta giocattoli. Ma non mi interessa. Aspiring adventure. Ok. E come secondo punto vediamo cosa c'è. è legato all'avventuriero. Mind buffed. Possiamo dargli un potenziamento a questi. Che arriva fino al... Energy, self. Soul. Art. Mind. E body. Body. Lui sarà, Sherwin, un avventuriero. Questo è il crafting panel. Quello che possono craftare i singoli personaggi. Mentre invece vedete che cliccando qua in alto li abbiamo in visione tutti in base alle loro competenze. Quindi questa è una innovazione se vogliamo perché è tutto comunque legato a quello che possono fare in base alle loro passioni che si sviluppano col tempo. Infatti adesso avendo craftato questo si è espansa l'elenco delle cose craftabili. e ci sono anche fishing rod e woodcutter. Allora io vi faccio fare a Morwenna questo e Morwenna si metterà cliccandoci sopra dovrebbe dirlo sta craftando scrap tools no l'ho annullato fai questa ok me l'aggiunge sotto nelle altre cose potresti fare anche un wood fishing rod scusate faccio anche la fishing rod ora sta iniziando a fare la cosa questa cosa è successo ronald che è il nostro woodcutter no ronald si woodcutter ma anche un investigator si poi dovremo esplorare dovremo andare in giro cercare di capire e ovviamente con i singoli personaggi quando li prenderemo in parti insieme e li controlleremo potremo anche andare a lutare le varie cose adesso io Tavis è un Gatterer e attualmente gli manca aspetta ti metto in pausa Gatterer quindi scusate ma questa è la fish stand ok Gatterer la roccia scolpita no devo vediamo l'altro ci manca anche quello che raccoglie l'acqua se vogliamo per essere precisi allora vediamo se c'è qualcosa per quanto riguarda il Gatterer Gatterer's Hat e lo fa Tavis ovviamente perché è lui il Gatterer ok iniziamo anche il lavoro su quello come vedete sul crafting è riportato anche quello che viene richiesto dal singolo uno stack di Gatterer e costa 5 3 trunk qua in alto vediamo quello che possediamo il 3 trunk abbiamo ne abbiamo 39 sì le icone sono un po' piccoline ma va bene adesso noi abbiamo nel nostro inventario la accetta se noi ci clicchiamo sopra possiamo dare dire anzi a chi darla io adesso non mi ricordo più perché sono un bambu chi sta facendo Ranald ok vedete che Ranald ha in mano la roccia e sta facendo tutto con quello quindi io gli dico Ranald vieni e prenditi l'accetta dovrebbe già averla presa infatti la vedete qua potete cliccando col destro andare a bindare e quindi in questo caso lui userà l'accetta non la sta ancora usando forse è solo la grafica che non cambia comunque lui adesso sta usando l'accetta pensate che nella prima partita il mio taglialegna aveva intelligenza 4 e per usare l'accetta viene richiesta un'intelligenza 6 quindi va bene questo sicuramente gli dà più efficienza in quello che fa ora stiamo facendo ma guarda cosa sta facendo sta facendo la canna da pesca Jeanne non l'abbiamo mai toccata infatti allora Zoe sta pescando con la lancia credo adesso Zoe gli daremo la possibilità di pescare con la canna da pesca quindi dovremmo avere la canna da pesca selezioniamo e la diamo a Zoe che la prende immediatamente adesso vedete che l'ha presa bind e la usa per pescare garantisce un extra sweet water fish ok permette di pescare di più i pesci d'acqua dolce guardate quanti pesci ci sono avrei dovuto metterla di là ma va bene la cosa che mi lascia un po' così è che non c'è alcuna impostazione se non il distruggi per ogni edificio quindi boh sarà da capire cosa sta facendo questa si sta craftando jean sta in idol perché jean non ha ancora un'abilità ma addirittura possiamo prenderne un'abilità ogni 100 punti quindi possiamo dargli qualcosa nursemaid aspiring adventure l'ho già dato questo jean uno che si chiama jean è un intrattenitore potrebbe fare un inkkeeper abbiamo ancora punti da mettergli vediamo potrebbe essere prudente healthy over suspicious resilient oppure vabbè gli diamo è un barding kiper entertainment quindi vediamo se c'è adesso una costruzione che ha a che fare con con questo ovviamente il gioco va esplorato in pieno gutterers arcadian gate è l'unico modo di fuggire dall'arcadia ma chi lo vorrebbe in hub eccolo qua tac jean fai l'in hub fallo qui bene buon lavoro buono scavo voglio vedere adesso so che si prepara a pescare con la canna da pesca si sposta ovviamente dove ci sono quindi non è stupida questo è un deposito di argilla quindi bisognerà specializzare qualcuno anche nello scavo dell'argilla vedete adesso pesca non più con la lancia ma con con la fioccia insomma ma con la canna da pesca poi la domanda è ma questo senz'altro verrà da sé andando avanti con la partita dove vedo le quantità di cibo dove vedo cioè sì lo so già in realtà che è qui ma come faccio a vedere di che cosa hanno bisogno i loro vabbè non ho parlato delle tradizioni di adaptation perché non le ho ancora capite completamente in sintesi noi abbiamo il council of a zen plus che sono i nostri nemici che attualmente sono a 200 status 200 molto difficili loro vivono in un dungeon e noi viviamo in un settlement quindi potremmo andare anche a sfidarli sì poi è un insomma la terra potrebbe l'arcadia insomma la cosiddetta arcadia questo continua ad abbattere alberi e vediamo chi non ha niente da fare perché sicuramente ci sarà qualcuno che non sta facendo niente ecco tavis avendo il gata nel sat sta iniziando ad andare a raccogliere cose e depositarle quindi lui deposita quello che possiede quello che ha raccolto sta raccogliendo pesche adesso quindi abbiamo più o meno tutti questo questo si sta pettinando questo cosa gli avevo detto di fare non mi ricordo più a spain adventure ah è vero questo è un avventuriero quindi potrei mandare lui ad esplorare ma non ha in mano nulla per per poter combattere gli posso fare ram pouch make it club make it club che potrebbe fare direttamente chairwin ok invece sta lì a pettinarti la barba che tra l'altro è molto bella non lo nego ma potresti metterti a lavorare e fare il putting on bloody face va bene il buon jean sta mettendo in piedi la sua locanda ok finalmente ha finito di pettinarsi la bellissima barba e bellissimi capelli e inizia ad andare a craftarsi la sua arma principale dove andremo a provare ad avventurarci all'esterno del mondo conosciuto ok abbiamo sviluppato una sorta di locanda sblocca i tavoli della della locanda possono visitare ok quindi tecnicamente dovremmo avere anche i tavoli adesso understand in meal table in hub e si è lì in hub quindi large medium in table quindi jean si fa il tavolo devo capire come si fa a ruotare intanto appena jerwin finisce il crafting della sua avvio velocizzo il gioco appena si fa la sua club che poi prende un pezzo di reno lo sculpisce insomma lo tagli e diventa già una mazza insomma ok ah smoking a sigaretta questa è veramente trash come cosa in arcadia soprattutto comunque abbiamo il club lo diamo a jerwin da bravo ok e poi bind e quindi hai l'attacco ora tu pianta di fumare e vieni con me acceleriamo andiamo a vedere se troviamo qualche nemico da poter affronteggiare io adesso velocizzo un po' giusto per farvi vedere attacchi il KO la fai no perché non sei un cacciatore ci sono nemici in giro potremo anche incappare in quelli che sono la nostra fazione apposta adesso ho velocizzato attacchiamo il porcione no non lo attacca deve essere proprio un nemico solo un cacciatore credo possa attaccarlo però ci sono i monster in giro quindi ogni tanto si trova qualcuno vediamo con lo shift si muove velocemente con buzz ovviamente lo stiamo portando a morte certa cos'è questo rock cliff sono tutti giocimenti scavabili questi il gioco attualmente sostima delle recensioni nella media e onestamente non le ho lette a me non sembra assolutamente male sembra un gioco molto più riflessivo molto più astratto di tanti altri tra l'altro stavamo guardando le relation le abbiamo viste le traditions sono cose che possiamo andare a sbloccare ve li faccio vedere radianza shadow mancy geomancy sblocca la classe di combattimento del geomante le idromante il piromante quando si raggiungono questi punti l'adaptation invece non so cosa sia dovrebbero essere dei perk che vanno a sbloccarsi quando andremo avanti e saremo sicuramente più adattati a questo mondo comunque non si trova attualmente nessuno non vedo nessuno si vedete che il percorso lo trova da solo ma ha bisogno di un po' di tempo intanto qua stiamo andando avanti ci manca il cacciatore comunque un cacciatore che lo faccia di professione andiamo avanti vediamo tanto è tutto velocizzato adesso quindi vediamo magari non troviamo neanche nessuno qui però secondo me qualcuno salta fuori però poi questo è una buca e vedete che loro non possono fare niente se non hanno la specializzazione questa è una lucertola un lizard sì però non può attaccarle cos'è un burione questo? sembrerebbe di sì è un burione o l'opposto ah qua è un'isola ok qui c'è il mare l'inizio è molto carino del tutorial perché ci fa vedere proprio la ce li fa controllare solo così i nostri poi i disegni sono molto simpatici soprattutto la il montone qua la riete e ci fa combattere contro un goblin mi pare quindi non è proprio realistica realistica l'ambientazione un po' se vogliamo mitologica comunque qua non c'è niente nemici non ne vedo qua si scava un sacco di zona mineraria che c'è qui però la musica qua sta cambiando siamo arrivati al bordo opposto c'è la mucca o ci lasciano tutti in pace toy no siamo tornati a casa abbiamo esplorato un bel po' di mappa ma non ho visto elementi ostili cosa che non mi dispiace ragazzi questo era the first man così visto molto molto in modo raffazzonato ma può essere utile se siete in dubbio su com'è questo gioco penso di sì perché anche io quando vi il gioco pubblicizzato in attesa lo segui per mesi prima di poterlo chiedere allo sviluppatore non avevo capito esattamente come fosse e infatti quando ho iniziato a giocarci prima non ci ho capito niente perché mi aspettavo altro e poi mi ha sorpreso quindi ecco spero di avervi dato un'idea su quello che il gioco ha da offrire e fatemi sapere ovviamente anche voi qua sotto che cosa ne pensate qua sotto ovviamente nei commenti alla prossima ragazzi e ciao ciao